e anche nel processo di allenamento della difesa a tre, se la vuoi allenare bene, la devi allenare con il 3 più 1 o il 3 più 2, loro devono immediatamente capire se per passare a quattro occorre un esterno o occorre un centrocampista. E questo è il segreto della difesa a tre, il mio segreto è questo, e ve lo dico io a voi, gli altri non lo so come farlo, ma il mio segreto è questo qua. A tre isolati, in maniera statica e in maniera lineare mai, sempre con la collaborazione di un centrocampista. Durante l'entraimazione, non lavoriamo sempre con i 3 difensori, ma anche in l'entraimazione, i 3 difensori e con i 1 o 2, non lo so che non si può fare. Non è un'altra cosa, ma il problema è che il treno è il treno, il treno è il treno, e il treno è il treno, e il treno è il treno. Allora, spiegami. Io, come allenatore, sono uno dei pochi che sceglie i giocatori di scelgo in funzione del tipo di gioco che voglio fare. Spieghi questo concetto. Questo significa che il progetto di gioco è già creato a monte nella scelta dei giocatori. Io non faccio così, ho la fortuna di poter lavorare così. Non è che vado sul campo, vedo i giocatori e decido. Io la squadra la faccio io, la faccio il manager, la faccio prima, e scelgo i giocatori adatti per fare quello che io ho in testa. Spieghi questo concetto. Questo è il nome dei giocatori che trovano i giocatori. E allora, siccome il mio progetto di gioco mette al centro il tempo e lo spazio, io scelgo i giocatori in questo modo. Almeno quattro mancini nella squadra, ci devono stare. Allora, la squadra ideale è quattro mancini, quattro destri e due ambidestri. Spieghi questo concetto. Hai capito? Quattro mancini. Quattro mancini. Quattro destri, ok. E due ambidestri. Ok. Vu che, ma anna, il metto il centro del gioco, il tempo e l'espasso, l'ambiente è importante che ci trovano 4 giocatori per giocatori, 4 per l'Amin, e 4 per l'Amin, 4 per l'Amin. Per l'Amin. Allora... Pensando ai tre difensori centrali. Quello di mezzo, ambidestro. Quello a destra, destro. E quello a sinistra, piede gauche. Cominciamo a esaminare questo. Quindi il terzo difensore di sinistra deve essere mancino, obbligatoriamente. Sennò perde i tempi di gioco. Spieghi questo concetto. Quindi, per l'Amin. l'Amin aAR è avere raggiura del gioco, l'Amin in gioco di gioco, l'Amin. E l'Amin. Conc钻are con il gioco, E l'Amin. Quattro, è essere... Ho. 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 Lo. gli esterni quella sinistra mancino e quella destra destra quindi siamo già tre mancini e tre destri 3-4-3 3-4-3 3-4-3 3-4-3 i due stanni offensivi il sinistro gioca destra e il destro gioca sinistra 5-3-4-3-5-4-3 i due stessi che a giochi non ha violato scena dei alcuni e dei facolti tu hai già 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 strappato Ok. 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 Allora, che cosa succede? Fai vedere col tempo che cosa succede. Che quando l'azione è a sinistra, tu hai tre mancini, tre mancini che possono giocare a uno o due tempi di gioco e guadagni il tempo di gioco. Allora, spiego questo concetto. Come la vedo io, quando fai possesso palla, hai già un tempo di gioco di vantaggio rispetto agli avversari. Sempre. Hai un tempo di gioco di vantaggio. Che non lo devi perdere. Perché il difensore si muove con un tempo di ritardo. Non si può muover con lo stesso tempo. Se non lo attacchi all'espalla. Spiega questo concetto fondamentale. Sì. Ehm. Cosa faccio io se gli avversari li chiudono? Gli spazi e fanno identità al centro. Perché giocando col trequartista, 3-4-1-2, gli avversari fanno identità al centro. Spiega questo concetto. 3-4-1-2 fanno identità al centro perché hanno paura del trequartista. Quindi quando succede questo, che fanno identità al centro, io cambio di posizione i due centrocambisti centrali. Perchè? Perchè? Devono giocare col cambio di gioco sistematico. Alla khater. Lezzum, ma ne sistematiquement, iamlu il changement di gioco o il rinversment. Ehm. 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 Sì, Mr. Taler, prima vuol sapere in quanto riguarda gli esterni, se devono essere difensori oppure due giocatori? Brava, bella domanda. Se il 3-4-3 con i due attaccanti larghi, dipende dalla scelta dei due attaccanti, Taler, spiega. Esatto. Se tu hai due attaccanti larghi, i due esterni possono anche essere giocatori che io chiamo fascia a fascia, che sanno fare le due fasi. Ok. In il 3-4 attaccanti, per esempio, se hai due attaccanti all'arrivata con il terreno, tra le due attaccanti, l'arrivata che si è giocatori che si è giocatori offensivi? Se invece con il 3-4, i due esterni devono essere giocatori offensivi. perché io mi passo alla 4 con il centrocampista centrale, con uno dei due che ha caratteristiche più difensive non rinuncio all'attacco con gli esterni se no diventi prevedibile ok intendi nel 3-4-3 col Roma allora, bravissimo se è il 3-4-3 con le due punte esterne due attaccanti larghi allora puoi anche giocare con due che fanno le due fasi d'accordo? perché hai i tre attaccanti è il centrocampista che si alza ma se giochi col 3-4-3 è una scelta reticolare che guarda in maniera olistica, non puoi guardare solo il singolo giocatore dipende tu, nelle altre zone del campo chi hai? se hai il 3-4-3 i due esterni devono essere due giocatori bravi a fare la fase offensiva ok ok quindi per quanto il 3-4-3 lozange Talel le due le due eccentralismo è più offensivo non va a fare se non mi ha detto che 4 minuti sui larghi voilà se non mi ha detto che si si è bravi a crossare veloci che attacchano lo spazio dritto per dritto e cross non devono andare mai dentro al campo perché dentro al campo ci sono i due attaccanti e 3-4 e non c'è un giocatore che vuole e quando qui si attacchano lo spazio bravo non c'è non c'è un giocatore che si si attacchano lo spazio non tutti sanno giocare col trequartista il taglio dentro, venire dentro al campo si giustifica se non hai il trequartista 3-4-3 viene dentro al campo e fa il cosiddetto trequartista situazionale ma se hai il trequartista di ruolo dentro al campo non deve entrare nessuno è territorio del trequartista non ci sia chiaro questo concetto invece di venire dentro al campo io preferisco che uno di due attaccanti vieni incontro alla palla e il trequartista attacca la linea difensiva è chiaro il suo concetto? questo purtroppo qua non parte per quale motivo non parte? non lo so non mi dà il comando ma riesce riesce a e adesso sto usando il telefono con te però c'ho anche il computer acceso e ci so pure che ho computer e funziona ti vedo al computer però faccio share screen e non mi dà la perché? cari matti ha il lo sync ma tutto è l'utilizzazione ok beh puoi già condividere mister posso condividere? non mi ho evitato esatto però ah ce l'hai ce l'hai bisogna prima aprire il bisogna aprire il documento prima ho fatto ho fatto ok ok poi quando quando si schiaccia su su share cosa cosa le esci fuori? adesso io vedo te e vedo me a destra share ok esce your browser is providing access to the screen boh io ce l'ho aperto il documento eh quindi non è un errore mio sì 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 no no aspetta vai su zoom mister vai su zoom vai su zoom al computer vai su zoom al computer devo ritornare su zoom al computer sì e l'ho fatto già prima ok allora zoom zoom computer vai condividere un documento allora io adesso eh tu mi mi senti? sì computer senti? sì sì no mi senti? sì però no dico al computer mi senti? sì sì ma non so se il computer ti sento o no perché no adesso ti sento adesso funziona computer sto sentendo ah computer ok allora provo a condividere eh io prima non ti sentivo però allora vai a condividere adesso allora vai a condividere no 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 non è un problema vai condividere mister vai su zoom vai su summa condividere riesce su zoom no 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 ok bene allora vai su condividere una carima parte La scena è di PC La scena è di PC Oh sì, la scena è di PC Sì, non è vero Alla PC o alla portabel? Alla PC Alla scena si è di un scena Le scena è di un scena ho parlato con mio figlio che sta a Milano mi puoi mandare la relazione mister? fare email cosa dici? ti ripeto questo qua non lo so con la modifica che a zoom era un po' di gioco che ti devo dire? hai fatto share? hai clicchato su share? si, si, si cosa ti esce fuori se clicchi? mi esce questo your browser is preventing access to your share screen che significa? mi esce una cosa scritta ma quali browser sta usando mister? internet explorer oppure google chrome? usare google? meglio google, si meglio google, ok si, si esco e faccio google ok, si, si miroco pozie miroco miroco la spittiamo l'internet explorer che è stata un'applicazione molto più ma non c'è un problema ma non c'è un problema quindi ti avvicini a google chrome? miroco ma non c'è un problema 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 no. sì questo è un po' di più bello di Alessandro Alessandro nel testo di Trasinque Dio nonno, non devo semplice non è un po' di bambini non, non, è un po' di classica non è un po' di bambini è un po' di bambini è un po' di bambini dei bambini ha detto che c'è qualcosa di più che è un po' di bambini come dicevo sì, mi raccoglie con Google Seguro il gioco il gioco Sì Non c'è tutto C'è tutto il gioco Sì Insha'Allah Il rispondente Il rispondente Il rispondente Il rispondente Il rispondente Il rispondente Non d'accordo Ha fatto In 3 quattici Ma earth He V告訴 es E Il gioco il milioterano, gli animali e l'Eccentrii, per esempio, sono arrivati nel milioterano e sono arrivati dall'interno del giro. Entendete? Dio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio. Dio, non ti faccio. Dio, non ti faccio. Il milioterano è arrivato dall'interno del giro. Il ti faccio, non ti faccio, non ti faccio il giro. E non ti faccio il giro. Dio, di preferenza. Il giro di riscaldato che vuole un giro per il giro, quindi non ti faccio il giro. Il giro di giro in mani. è quello che fa. Perché l'attacca è quello che crea l'espasso del numero 10 ma è quello che si tratta il cambiamento tra i centrii. C'è una cosa che ha detto, perché ci sono dei centrii, che vogliono avere due attacca, che vogliono avere due attacca, che vogliono avere il numero 10 del numero Raja. C'è una cosa che vuoi? Perché non c'è l'espasso del numero 10? E in più, non c'è più un giro di giurta. Se non c'è più, se non c'è più, se non c'è più, se non c'è più. C'è la base di questo. Eh sì. ... ... ... ... se passe al barche a un 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 barche a equilibrato ed è solo per la transizione, da qui si mette le qualità di fare solo solo i stubsi sui sistemi riflessi.. 4 animazioni classiche ma c'est più facile Il sistema di ruota più di più, come ho detto, è un o due, si entra il bar, che ha fatto un lavoro per la transizione, per l'equilibrio, per l'espasso. Come ho detto. E non è un modo, che non è un po' di sottile, ma non è un po' di sottile, ma non è un po' di sottile. Exactamente. E' un po' di responsabilità. E' un po' di sottile, come lozange, come lozange. perché vogliono bene formare dei giocatori che sono stati attraverso il giocatore che sono stati attraverso il fuoco quindi devono essere stati attraverso con i giovani questo è quello che vogliono fare questo è un sistema moderno futebol un movimento molto rapido futebol di spazio riflessi nel cognitivo e tutto questo questo è quello che vogliono fare sono stati attraverso sono stati attraverso posizioni e posizioni di spazio perché è veramente qualcosa di più 3-4-3 si è un'attraverso che si trattaverso attraverso 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 che Non ci sono piccoli a votare di Sia Adel. No, non non è una operazione che si riege il risultato. Non è un po' aiutato, ma è quello che si riege il sistema. Ma come è un po' che si riegge il suo lavoro. No, un po' che si riegge il lavoro, a che si riegge il risultato, e anche un po' di riuscione. Ma c'è anche un po' dell'entrano, Beaucoup d'entreniore si chiamano al club in cui li recrutiamo e si chiamano il vostro a leggerli tempo la leggerla è l'entreniore se chiamano a leggerle se chiamano al primo o al terzo e che chiamano a leggerli quindi non sono Non c'è nulla, non c'è nulla. 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 C'è nulla. Numa c'è nulla. Non c'è nulla. C'è nulla. C'è nulla. E ci sono state direttamente e ho interruttosto in una situazione di destrazione della collezionale. Quindi a prima di fare un attenzione come si facevano! E' proprio! Non è vero che non è vero, non è vero che non è vero. quindi in un certo punto di vista, per qualsiasi. Quindi in questo modo, a corso di dire che sono in attenzione, non si viene a fare un'entruttura tradizional, se dice che ci sono così, non si viene a fare un'entruttura. Non si viene a fare un'entruttura. Non si viene a fare un'entruttura, non si viene a farlo di più coraggio, non si viene a fare un'entruttura. È un'entruttura creativa. è creativo perché ha questo anche con la gente non c'è molto buongiorno c'è molto d'entrener che hanno avuto la gente per esempio hai l'esperanza hai una richiesta bisogna sapere la richiesta non la pauvretà la richiesta quindi ho trovato delle soluzioni ma vieni mi senti adesso? ragazzi mi sentite? si ah ok vediamo se è fungico ho dovuto fare un nuovo tutt'anno una cosa vediamo adesso questa aperta cerchiamo di cominciare vediamo un attimo di cominciare perché qua con esterno mi dispiace per voi ecco fatto a posto a posto a posto a posto allora vedete? si ok vedete? tabetta posso? si 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 allora hai spiegato un attimo questa è una lezione perché c'è già qualche cosa della difesa a tre e del sistema e di tutto l'animazione a tre però è propedeutica poi alla prossima dove finalmente non avremo problemi che faremo solo esercitazioni e sicurezza d'accordo? quindi è sicuro questo è il mio progetto dice che noi tratteremo la prossima fase, allora, guardate, siete due immagini, voi vedete, quattro giugno, quattro giugno, quattro giugno, e due giugno, dove sta il traduttore? allora, questa è la mia idea di 3-4-3, due rombi, il rumbo di destra, il rumbo di sinistra, l'altro rumbo, il difensore centrale, il difensore centrale e il trattore giugno, questo è il compagno, l'amico traduttore, si, che, che. ok 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 mister, quindi questa è la mia idea di giugno di giugno, quindi le giugno sono i miei, i giugni, 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 invece le giugno e un altro giugno, come dal difensore centrale, che è in giugno dell'asfer, le giugno, e poi, un giugno di giugno, e con il giugno. che si muove questo questo è un centro centrale c'è una vista c'entra il primo rombo, il secondo rombo, il terzo rombo, il quarto rombo, il quinto rombo, sono rombi che si spostano e si fanno, sono rombi dinamici e somma... e ci vediamo che l'horizontale, per esempio la città è una catena, 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 un, due, tre, quattro, cinque, questo è il segreto del mio calcio, questa catena qua, che nessuno pensa, questa, questa, questa e i trequati, compresi il portiere, voi vi faccio vedere con il portiere che succede, tra voi, qua vedete questa cosa verde, vedete, vedete, qua, vedete, i tre, quattro, tre, a colori diversi, qua, questa qua, vedete, è tutta, sì, allora, scrivi un attimo prima questa immagine a sinistra, ok, ok, quindi, spiega, 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 questo è evidente, i quattro russi e questi quattro qua sono evidenti, e sono, diciamo così, un rumbo che tu lo trovi sul campo, ma il segreto del primo, io, tre, quattro, destra, qui, il portiere, questo qui, i due centrali e i trequattisti, questi qua, uno, due, tre, quattro, e cinque, sono questi che danno in brevetibilità alla manovra, quindi, abbiamo visto une pozisicks ceux che parlano di Locani per Mieser, di Locani, di Locani e di Locani, di Locani, di Locani. la To장, di Loc... di Locani per Mieser, ci sono, ci sono, ci sono di Locani per la loro Danke, leありますi, hotel La Locano su come unaiego di Loc stretcho con throwing fog froggi到了 un luogo che a proveti risotto, che avevano delle campagne, fohealth lo trovi del teore che sono 우리 parte, in werso il Portaro, 무엇ias, della Salimento u Feld waspista quindi non puiss crema, per me è fondamentale nel mio progetto di gioco palla avanti palla dietro spiega un attimo mister primo concetto primo concetto io per reeducare i miei calciatori a fare palla avanti palla dietro utilizzo i colori e dove dico vietato giocare con lo stesso colore questi non possono giocare tra di loro questi non possono giocare tra di loro questi non possono giocare l'unico che può giocare con tutti è l'integrativo grazie mille ok per entrare al concetto con i miei calciatori è un osso con i miei calciatori sono stati il maso di tutto il maio che possono giocare con i miei calciatori non posso giocare Questa qui è un'esercitazione contro il 4-3-3, 4-3-3, per attaccare la profondità, parla avanti, parla dietro, parla meno spazio. Questa è la manovra. Ti avuto? Si, per contrarre la formazione 4-3-3, per attaccare la profondità. Qua è un'attivazione, catena di sinistra fa possesso palla contro un avversario, catena di destra fa possesso palla contro un avversario, catena centrale, portiere, difensore centrale, trequartista. e portiere fanno con sesso palla contro due difensori qua. Allora, nelle vie attività c'è sempre l'avversario, spiega. Donc, abbiamo l'activazione 1-3-4-1-2, avec 3 ballons. Abbiamo il chien, l'Ali Sare, l'Ali Sare, l'Ali Sare, 4-1, l'Ali Sare, 4-1, e poi, dopo il chien, l'Ali Sare, 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 l'Ali Sare. Quindi, si, per contrarre la posizione, contro gli due giocatori rougi. Allora, la catena centrale valla qua, questo si muove qua, questo si smacca qua. Questo si muove qua, il fortire va qua, e quindi deve diventare tan, 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 d'accordo? Quindi loro si abitano a giocare sempre in diagonale questi qua. E questi qua poi fanno il possesso con uno che attacca sempre, perché loro devono abituarsi a giocare, a fare il possesso, vanno sotto la posizione. Allora, io perché non amo le scelte, perché le scelte mancano il tempo, sono statiche. Preferisco l'animazione, il lavoro sul campo. Però questo è giusto per far capire un'idea. Dove sta il segreto del mio 3412? Sta qua, 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 qua. Vedete? Questo. E poi, i due c'è il bambini, c'entrano, gli esterni, i due attaccanti, ma il segreto è qua. Questi due. Tornati al discorso che faceva recendi, l'altra volta, spieghi questo concetto. Io? Però, Mistro, lasci il tempo per tradurre, altrimenti... Ah, no, no, ok. Troppo. Donc, fil il scelte, sì, fil il scelte centrale che fiede l'passage di Balom, il gardien, l'axial, ma secondo il movimento tra i giù al rouge, che fiuwa bich t'harca l'imini, il giù a metà nabich j'ai amel di markej, sul senso contrarre. Donc, il passaggio di Balom, bich si ridime d'une maniera... diagonale. Allora, questa è un'attivazione per i marcamenti in diagonale, i passaggi in diagonale. qui, per sfondare 4 contro 1. Questa qui, invece, era un'esercitazione per fare palla avanti, palla dietro, palla seconda attaccante, palla avanti, palla dietro e palla qua, perché noi avevamo capito che questa squadra qui si attaccava qui, qui. con la punta che viene, ta, ta, questa attacca le spalle. Questo è un tipo di attivazione specifica per la defensa 4, 4 e 3, per attaccare la linea sull'ultima, questa è una delle poche volte che lavora solo con la difesa 3. però i due telsidio, qua e qua, spero, sono due settori allo stesso tempo che lavorano contemporaneamente. Allora, sono due modalità di mediabilità di N portiere. Lui, la trova, contro Senk, a gauche, le Senk sono disposi con tre attaccanti, punta centrale e due esterni, due centrocambizi che stanno sotto, qua. Da quest'altra parte c'hanno un 4-4-2, dici. Mister, 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 visto che ci stiamo sentendo molto male, fai una cosa. Entra con zoom dal cellulare e parli dal cellulare, spieghi dal cellulare, parli dal cellulare e fai vedere le slide. Sì, sì, non ci stanno sentendo molto male, fai vedere le slide, fai vedere le slide, fai vedere le slide. fatemi, fai vedere le slide. Kareem, non c'è un telefono zoome telefono, mi piace, mi piace, muzie a segnare il suo ruot in Raphail, mi piace il muore il ruot di Raphail e segnalare il suo ruot di Dushanti. Docenti, ok, bene. Sì, Talil, non è vero il concetto che abbiamo parlato con l'ozonga? Sì, sicuramente, l'ozonga, 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 l'ozonga. All'azonga, possiamo dire questo, secondo me, il 3 di monti di gioco in una migliaia. D'altro, 3 di rizzo, un anno per quattro, da qua, e i due, in un anno per quattro. Cosi non ho underlying l'ocami, 3 di gioco in una migliaia, ma non sono 3 di gioco in una migliaia. Sì. e come si sono stati anche un'esperienza e la moglie e il problema è che il punto è di rispondere la questione è la quarta statica la questione è la quarta statica il punto è che il marco è la quarta il guardia più il tre difensore mi senti adesso? mi senti? ok benissimo allora qua vedete questa animazione a gauche e a destra sono due modalità di difesa e i tre difensori si devono imparare a giocare contro i tre attaccanti e contro i due più due grazie chiaramente questa è un'animazione sul campo emergeranno che contro i tre difensori ci si deve comportare in un modo contro i tre attaccanti ci si deve comportare in un modo contro i due attaccanti e i due esterni in un altro modo contro questi qua è facile soffrire qua il due contro uno qua qua invece è facile soffrire la sponda e il tiro da fuori hai capito? sì quindi per esempio l'animine il mechè che si tratta l'adima sulle couloire sono due contro uno sulle couloire per quanto l'asserti è piuttosto il giù che si tratta l'asserti come 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 questa è un'altra modella di esercitazione difesa 3 contro 5 più due esterni quindi questi qua stanno in di una complessità difensiva molto 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 elevata poi dopo spiego questo sono degli esempi poi spiego come arrivare all'altissima complessità queste altissima complessità 3 contro tutti però i tre difensori questi qua i gialli non difendono solo ma quando conquistano palla devono andare a giocare con uno dei tre che sta qua dietro che rappresentano nel progetto di gioco il trequartista e i due attaccanti quindi questi qua recuperano palla e giocano questi ricevono palla e giocano un'altra volta qua. Ok, quindi i difensori non saranno solo difendere ma una volta fatto? uno dei tre giocatori non sono giocati o due attaccanti questi ricevono recuperano e giocano qua questi subito giocano qua quindi questi ad altissima intensità mentale e anche fisica poi dopo quattro minuti c'è un'alternanza questi cinque questi sei qua prendono il posto degli altri qua è il ruolo del portiere nella mia squadra il mio progetto di squadra progetto di gioco il portiere deve avere dieci uscite una per ogni giocatore di campo mi senti? Sì, quindi in l'exercito di Alessar, una volta di recuperare il ballonso per il defenso, dopo aver lavorato verso l'unore giù o le due attacchi, direttamente la scuola, dopo aver guardato l'attacchante, per esempio, la scuola si avvicinò il ragazzo al milieu del terreno adverso, e poi avvicinò la defensa di nuovo, quindi avvicinò l'exercito a alta intensità per 4 minuti. Inoltre, l'exemple di Alimì, il guardien di butto deve avere la possibilità di passare. Ecco qua. Chiaramente questa, aspetta un attimo, aspetta, però precisiamo, precisiamo, contro le mie squadre, sempre, gli avversari adottano una tattica molto aggressiva. Cioè, lo scopo è di non fare, cominciare, alle mie squadre, la manovra da dietro, perché generalmente faccio le squadre molto forti, tecnicamente. Spiega questo concetto. Quindi io so che... In questo caso, qui, stiamo giocando contro un 4-3-3, che fa identità qua in mezzo. Da un punto di vista speciale, io l'uomo libero, solo qua e qua. D'accordo? Sì. Quindi l'uomo è un esempio contro un'equipe, l'Italab, il 4-3-3, e l'uomo libero che non soffi il numero 10 e il numero 20. hanno cambiato di disposizione, hanno lasciato libero questo. So qua, movimento senza palla. Sì, sono solo esempi, esempi. Mo' andiamo un attimo a come si arriva a questo. Adesso, ma giusto per esempio, non vado a vedere come... Questa è la punta dell'iceberg, vediamo un attimo come si arriva a questo. È il punto, l'iceberg, c'è un po' che fa il nostro libro. Allora, io qua ho tradotto, quindi si legge, puoi anche leggere tu. Allora, si arriva attraverso l'epistemologia della complessità, connetta, connetta la filosofia della complessità. Utilizzare la pedagogia non direttiva, educare, non addestrare. Addestrare non si riuscite a tradurre. Come si potrebbe tradurre, addestrare? C'è una cosa che i giocatori eseguano solo. Spiega. Quindi, educare non si riuscite a tradurre le stagioni, ma la chiamata che si riuscite a tradurre le stagioni, ma la chiamata che si riuscite a tradurre le stagioni. Ok. Non si riuscite, non si riuscite, non si riuscite a tradurre le stagioni di parlamento. Ok. Apprendizaggio attivo e constructivo. Il giocatore è il protagonista della scuola. Quindi, il va educare a sapere la scuola. Non so se è stato chiaro. Poi, le quattro fasi dell'unità formativa. Per me, non c'è la scienza dell'entrenamento. La scienza dell'entrenamento è un modello fisico. Per me, l'unità formativa deve avere come filo luce l'aspetto cognitivo. La risoluzione del problema. Se risolvere il problema è attraverso la percezione. Selezionare, scegliere, soluzione. Quindi, attivare sempre questo processo. Per educare, pur educare, la più grande competenza della scuola. Saper agire, saper agire, saper agire tatticamente. Cioè, prendere decisioni efficaci. Questo per me è lo scopo di tutto. Non è difesa a tre, difesa a quattro. Difesa a tre, a tre. Difesa a quattro. Sono dei utili, dei mezzi. La finalità è il giugno che s'accomplisce l'efficienza. Il progetto di giugno. L'eugno operazionale che noi vediamo, i miei giochi, in che cosa consistono. Sono differenti. Tra i giugno di pressezione, la possessione del pallone. Sono totalmente diversa perché, per me, il giugno deve essere reale. La realtà del match non è una giudiposizione con una superiorezza numerica a través del comodino. La superiorezza numerica, per me, deve essere costruita a través del spazio e del terzo. Spiega il suo concetto perché, per questo, a me, non piacciono i giochi di posizioni. Perché quattro più due. No, più due non ci devono stare lì, fisicamente. Si devono trovare. Quindi, per me, il mio concetto di giugno è la parità numerica. E la parità numerica, dici, dici. O, con tre, allora. Aspetta, mister. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, questo concetto. A me, il mio giugno di giugno di giugno di posizioni, a me, le giugno di giugno di posizioni, a me, le giugno di giugno. Aspetta, spiega che, per me, il gioco. Il gioco è parità numerica. Superità numerica deve essere situazionale. Non fisica, cioè, di numero. Non sei contro quattro, di numero. Ma il quinto, il sesto, il tre contro due, il due contro due, devono essere situazionali. Per me questo è il segreto della metodologia operativa. Parità numerica, sempre. Con superità numerica, dinamica. È vero, è vero. L'educazione dell'incertitudine è una cosa fondamentale perché le sport collettivi, per me, non sono lineari. Sono chaotiche. Quindi, il giugno deve essere in condizione di riconoscere il problema e di trovare una soluzione adicata al problema. Le problemi sono determinati dalla presenza dell'avversario, l'avversario che determina il problema. E tu non sai l'avversario come si comporta. Quindi, il problema di me è concreto per la presenza dell'avversario. Non sai mai come si disposti in base dell'avversario. E poi un'altra cosa. Spiega questo concetto. In tutte le categorie ormai, gli avversari sono studiati. Guarda piano piano. Spiega. Quindi, in tutte le categorie, gli avversari devono essere studiati. Video. Attraverso video. Attraverso dati. Database. Relazioni. Quindi, dell'avversario si conosce tutto. Spiega. Diventa ancora di più essere imprevedibili. Per fare questo, abbiamo bisogno di una seduta formativa che sviluppa la capacità di auto-organizzazione dinamica, che si è scritto l'altro. Spiega questo concetto. Per arrivare a essere imprevisibile, per creare l'imprevuto, gli avversari sono studiati di auto-organizzazione dinamica, che si è scritto l'auto-organizzazione dinamica, che si è scritto l'auto-organizzazione dinamica. Allora, noi abbiamo bisogno, le quattro dimensioni, le tattiche, per me, tattiche, prendere la decisione e risultano i problemi. Psicologiche, aspetti emotivi e sociali, emotivi, confianza in soi, come dire, intelligenza emotiva, avere sicurezza nei propri mezzi, avere... L'intelligenza emozionale, la confianza en soi. È bravo, è esatto. Sì, tutto il collettivo. Emozionale e... Emozionale e sociale. La relazione, l'empatia, lo spirito di gruppo, la cooperazione, cooperare, collaborare. Questi aspetti sono fondamentali. Una delle caratteristiche dei giocatori che io scelgo è andata da questo punto di vista, punto di vista emotivo e relazionale. Poi deve essere abile tecnicamente e poi da punto di vista FIG deve patronneggiare gli aspetti coordinativi e condizionali. Ebbene, questi poi sono aspetti più di dettaglio tecnico riservati a FIG. La differenza tra le due approcci, l'approccio analitico e l'approccio sistemi, la differenza tra le due approcci. L'educazione della natandù, ce l'ho definito in attandù, aiutatemi voi, per dire proprio imprevisto. Non sono riuscito a trovare un vocabolo adatto all'italiano, che è imprevisto, è una cosa non improvvisata, ma una cosa che non ti aspetti, che però sai che può accadere. Chi lo può spiegare questo concetto? Sì, l'imprevue, mister. L'educazione dell'imprevue, l'imprevisibile. C'est-à-dire attendere, c'est-à-dire se formare per risolvere dei problemi che non existano ora, ma che possono existere. C'è questo l'imprevisible. Sì, però tutto ciò può accadere. Ma si sa che può accadere, come c'è chi non si sa. Queste sono le slide dell'altra volta, quindi le faccio passare, perché così poi io ve le mando. La scrittura di Furt, poi... Le mando tutto, perché ho fatto un grande lavoro di ricerca. Lo scrittura di Furt, gagne le temprie e le spazze, da una situazione fluttuante e la rivoluzione rapida, per gagne le temprie e le spazze. Tutto questo, tu sei ma, tutto questo lavoro, tutte queste attività, la scelta di Furt è per arrivare a guadagnare tempo e spazze sull'avversario. Quindi la scelta di Furt, per arrivare a guadagnare il tempo e l'espazze. Queste sono due relazioni su cosa sono i principi e le caratteristiche dei giochi collettivi e gli aspetti decisionali dei giochi collettivi in francese. Quindi è venuto che li leggiamo, perché ve le mando, si dice che queste slide qua ve le mando, ve le do. Questa è una griglia sulle caratteristiche semplificate dei giochi collettivi. Che cos'è un gioco collettivo di opposizione dove ci sono gli avversari? Quali sono le caratteristiche di cui bisogna tenere conto e su cui bisogna lavorare su tutte? Spiega questo concetto. Non va trascurato nessuno di questi aspetti elengati qua dentro. Nessuno. Anche quello che può apparire il più insignificante. Quindi nessun disaspetto che ci sono presenti in l'analisi. È il nascimento che non si trascurano le caratteristiche. Perché molto spesso, molto spesso, appare la differenza e il dettaglio. E la capacità di non trascurare niente. E la capacità di non trascurare niente. Non trascurare niente, non trascurare niente, non trascurare niente, non trascurare niente. Quindi, porter du ballon, il contesto, la decisione è soggettiva. Emergent significa qui e qui e qui e qui e qui e qui e qui, non in un'altra parte. Spiega, spiega, spiega perché è quello che dico io. E la decisione tattica in mezzo è determinata per diversi fattori. Il contesto, l'esperienza personale, gli aspetti, la familiarità, l'esperienza a vivere quel tipo di situazioni. Quindi, per me, l'allenamento è accrescere i vissuti, le vécute, i vissuti dei calcedori. Sì, il vécu un tal giur. Questa è una scheda bellissima. Il vécu un chassi un tiau, c'è la singularità, c'è la singularità, c'è la tua. Questo è un schema bellissimo, che non trovate da nessuna parte. Però tu, per arrivare a questo, devi sempre... Dove sei? Il... Il fattore determinante è la tattica, fenomen emergente, che è determinante, con le relazioni e le interazioni per me, trainer, gruppo, individualità, equipe, che sempre mobiliscono l'aspetto emotivo, motrice, cognitivo, tecnico. È tutto legato. Tu li sei. E c'è sempre tutto. Tutto questo ti serve per prendere la decisione. Scrive? Tutto questo è un base che ci aiuta a prendere la decisione. Ho il volevo bene riposare con la decisione. Il socle mtahia, l'immotif, il chassi, la motricità, il haraki, sia il relazionale con il mio amico, con il mio amico, per prendere una decisione. Quindi ci sono diversi fattori. Barche, Awebel, per prendere la decisione la più efficace nel gioco. La decisione è questa, sì, sì, piccolissima, piccola cosa, petite chose. Per arrivare a questa decisione, noi abbiamo bisogno di tutto ciò. che è l'allenatore, il gruppo, della squadra, di governare l'emozione, lo stress, l'emozione, la motricità, la capacità di elaborazione, di percezione. e non trascuriamo, non va trascurato poi il mezzo. L'aspetto tecnico, l'abilità tecnica, l'utile, l'utile, il più importante utile della chassi... Non dovremmo non trascurare le tecniche. che si trascurano, si trascurano molto. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. La tecnica la più efficace a utilizzare, è stata l'integrazione o il cuore del piede? Quindi ci sono le due tecniche, la decisione è la buona tecnica. Si. La decisione, la decisione, la decisione è mentale, la decisione è tecnica mister riesci a tornare sulla schermata di prima vuole parlare un pochino di più sulla parte tecnica allora traduci tu traduci tu traduci così l'assunzione la scelta è cognitiva io che cosa devo fare lo decido che la testa la scelta è tecnica la scelta è tecnica la scelta è tecnica la scelta è tecnica ma che ha definito la sceltaach sì Si sa. Quindi Mr. Adel ha detto con quale tecnica? Cioè nel senso la tecnica migliore qual è? La tecnica in situazione. Per me la tecnica non è quella secco, è la tecnica in situazione. Cioè saper quasi giocare a un tocco, a due tocchi, se giocare di esterno, di interno, ma tutto è fondamentale. La prima cosa fondamentale è la postura del corpo. Il fatto del corso, il corso tecnico, il corso tecnico. Non ho capito. On risulta una tappa con un controllo, ma quel è il controllo tecnico? Ah sì. Il controllo orientato o controllo normale? Donc on fa il corso. Allora, sì. Per fare il corso, allora spiega. Per fare la scelta, io dico sempre gioco dove vedi, ma non gioco dove vedi dando le spalle. Cerca di ricevere la palla con una postura tale del corpo che ti consente di avere davanti a te un raggio di azione, un angolo di visuale molto largo. Vuoi spieghi questo concetto? Sì. Donc il dit souvent a ces joueurs qu'ils doivent jouer là où ils regardent. Ma Mohamed Barcher non m'y concha'at il bavard. Poi spiega un'altra cosa. Sì. Può suivre Mohamed Yesser, il visio en base d'un joueur, bien sûr, Mohamed, qu'il faut jouer là où tu regardes. Siccome la tecnica è situazionale, spiega questo concetto, cioè è determinata la situazione, io non sono d'accordo nel dire ai miei giocatori giochi a un tocco, a due tocchi, fai il controllo orientato o porta la palla sulle serre. Questa cosa qui la devi saper fare, ma deve essere una scelta del momento. Perché ci sono delle condizioni dove devi giocare a un tocco, altre condizioni dove ti servono due tocchi, altre condizioni dove ti servono portare la palla, conduire. Donc, la decisione tecnica è situazionale e è determinata dalla situazione. Quindi, il ne dice mai a ce joueur di giocare a una tocca, due tocchi di balle o alla bichim, chi bulcora, vu che la decisione tecnica è sempre situazionale, ça dépend toujours della situazione. questa è una slide che riprende quello di prima che è spiegare che la presa di decisione è legata a tutta una serie di condizioni che si devono verificare io insisto sempre, posso essere noioso decidere e risolvere problemi che devono essere sempre legati alla situazione io non dirò mai ai miei giocatori i giochi operativi non sono giochi a un tocco a due tocchi, sono giochi con i tocchi che servono perché se la situazione prevede che devi condurre la palla tu la devi condurre la palla non la devi dare chiaro questo concetto? spieghi questo concetto la presa di decisione con un chufo cognitivo, emotricità l'emozione, la motivazione è un gioco operativo mister ha un tocco o due tocchi o tocco libero spieghi questo è un gioco operativo 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 di choisir di prendere la buona decisione aspetta Tabet però è fondamentale questo mi chiedono mister a uno a due tocchi o libero io dico quelli che servono a risolvere il problema di una maniera più veloce e più activa è un gioco operativo tutti o conduzio di bar voi avete la libertà di chiedere gli gesti gli gesti gli gesti attenzion 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 libertà è responsabilità della decisione non è sulla mano non è sulla mano la libertà ma la responsabilità in parallelo voilà responsabilità attenzion attenzion libertà con responsabilità la libertà è la mia responsabilità per me significa saver fare la efficacia e giusta di un uomo quella è la responsabilità allora questa è questa è la 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 allora incomincia a venire fuori a emergere la grande differenza dei giochi operativi con tutti gli altri giochi spiega un attimo può riflettere gentilmente mister allora noi abbiamo io ho detto sì che il gioco operativo l'uuge operazionale che è differente è differente tra i giochi di posizione un'altra caratteristica dei giochi operativi che non prevedono i tocchi obbligatori uno due tocchi toccolini ma prevedono la scelta del tocco necessario ok dopo quando i possessi parlo si dice ha un tocco ha due tocchi massimo del tocco io sono contro questo tipo di consegna sì quindi nel gioco operazionale vediamo la prima cosa che è il gioco operazionale non è la periodizzazione tecnica ma è che è il gioco 5 minuti o non posso continuare posso andare a un attimo un attimo ci pensa Thabed mister per 5 minuti poi poi torno ok si grazie che è che si 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 il Liverpool leo maggi maggiore la scelta la scelta Sabat può rinunciare la scelta la presa di decision Sabat questo slide è la metodologia operativa fase di posizione transizione sviluppo collettivo individuo tecnico tutto tutto non va trascurato niente ok 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 si 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 Come si chiama operativa? 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 Freud, Jung, l'inconscio, la paura... Come si chiama operativa? Ok. Eci c'è un altro schema che tratta della presa di decisioni. Come si chiama operativa? Come si chiama operativa? Come si chiama operativa? Perché il problema grande dei giochi collettivi è che il giocatore si prende decisione ma deve essere capita pure dai compagni, deve essere compresa. E poi vediamo un attimo quali sono gli elementi che fanno capire quali sono gli elementi che fanno capire quale tipo di decisione si prende un buon camarade. C'è un riso di trattamento di informazione, quindi c'è un riso di trattamento di informazione per prendere la migliore decisione, la migliore decisione, la migliore decisione la più efficace. Si fanno capire, quaiene il capito o il radar? Allora è un riso di rinforzare. Sì, è la scheda dell'espasso che l'altra volta è stata in italiano. Allora, una domanda a tutti... Dov'è il tempo? Dove sta il tempo qua? Il tempo chi ce l'ha? Allora, la situazione si gestisce sotto il profilo del tempo e dello spazio. Qui vi dovete dire dove sta il tempo? Il tempo? Dove sta il tempo? Che ha la palla. Esatto. E lo spazio dove sta? E lo spazio che è a destra? No. Chi è che possiede il tempo? Io sto con il giallo. I gialli hanno la palla. Uno possiede il tempo. Chi possiede il tempo? Chi possiede il tempo? Chi possiede il tempo? Chi possiede il tempo? Chi è il padrone dello spazio? Questo è questo. Questi sono i padroni dello spazio. Questo è il padrone del tempo. Quindi il tempo è qui. Qui c'è il tempo. 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 Spazio. Uno. appello e contrappello contro il movimento si vede che mesurer avanti di attaccare l'espace o la boot deve preparare l'admarcage con un contro movimento movimento opposto se vuole andare dentro va prima fuori e poi dentro qua ipotesi allora spieghiamo un attimo Tablet ci sei? si si ci sono si si fisicamente ci sono aspetta però aspetta un attimo perché questo pur qua se si attacca sette spazio perché l'avversario è vicino vedi è vicino attacca questo spazio lo sposta lo sposta lo sposta e lo attacca alle spalle questo spazio qui di qua di qua è lontano io dico sempre quando è lontano attacca all'avversario e vieni contro vattola prendere l'avversario senza farlo lo scappare l'avversario e vieni contro e vieni contro l'avversario che si 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 lo attacca lo va a prendere contro un uomo e poi viene dentro e poi viene dentro questo qui questo qui passa qua fa questo tipo di passaggio e fa questo movimento ci va sotto ci va sotto vedi corpo messo bene scarico cambio campo da quest'altra parte zona debole noi siamo arrivati da questa parte utilizzando quest'altro tipo di gioco questa giocata qua allora vediamo è fondamentale se è importante che l'equipe e l'UJUE acquisiscono il concetto soprattutto con i bambini dove sta il tempo e chi è padrone dello spazio non ha il tempo non sta qua il tempo non è pas ici né ici lo tempo è ici ici il y ha le quando ici qui e il y ha l'U e come c'è clare o e come o e come e come e come scusi ma sì sempre come sono fatto quindi sempre come perché non lo so so animazione, animazione, spada sotto, scarico sotto, cambio di campo. L'espace, questo l'avrete, l'espace topologique, l'espace che ci occupa sul Mavec Mon Corp, ed educazione del schema corporello, ut, basse, duarte, buche, perché è importante avere questi punti di riferimento rispetto al corpo. L'espace dinamico, qu'est-ce che c'è l'espace tecnico, qu'est-ce che c'è l'espace tattico, qu'est-ce che c'è l'espace di situazione, qu'est-ce che c'è l'espace progettivo, ed è espliqué, l'espace tattico è la distanza minimale tra l'attaccante e la difensore, è uno spazio che io mi prendo col mio corpo, ed è lo spazio che mi consiglio di non farmi marcare dall'avversario, io lo sposto, mi allontano da lui. L'espace tattico è quello che si crea con il movimento. Allora, questo è del corpo, questo spazio qua... Il spazio tecnico, è il spazio del corpo, il duello, è la distanza minimale che io riesco ad avere dall'avversario, ed è esclusivamente... La distanza minimale è l'inizio che mi prendo bene dall'avversario. Il spazio tattico è lo spazio che io creio con il movimento. L'espazio di situazione è lo spazio che io sfrutto in quel momento. L'espazio di situazione è l'espazio di nostrello per il momento. Lo spazio proiettivo è lo spazio che io prevedo di occupare in quel momento, di andare a prendere. Diciamo, allora, è uno spazio... E' 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 uno spazio, e uno spazio è tutto il corpo. Diciamo che questo, dopo lo vediamo, è lo spazio del primo uomo. Poi dopo vediamo che significa. Il primo uomo... E' uno spazio dentro? Il primo uomo! Il primo uomo! Se si, è lo spazio del secondo uomo! E' uno spazio proiettivo, è uno spazio che è il secondo uomo! Poi ci arriviamo Allora Prise di decisione individuelle Attore senza pallone Fase di possession Decisione preliminare È fondamentale questa presa di decisione Viene prima di tutto Allora Spiego questo concetto qua Allora La presa di decisione Tattiche E lì Ha la competenza Della tattiche individuali Qua stiamo parlando di tattiche individuali D'accordo? Io mi smarco Premier Principe Di tattiche individuali Lo demarcage Io mi smarco Per ricevere Secondo principio Ricezione Smarcamento e ricezione Sono legati Mi smarco per ricevere Io mi smarco Per ricevere Dove? U Prima decisione Prima decisione In appoggio Un appui O in sostegno O in sostegno Ma che cosa è determinato? Che significa in appoggio Che significa sostegno? Rispetto a che cosa? Alla? Palla Palla è qui Se vado sotto Su a sostegno Se vado sopra in appoggio Che cosa è determinato? Se questo ha la giocata A tempo e spazio Per giocare Vado in appoggio Se è messo male col corpo Ed è pressato Vado a sostegno Spiega il suo concetto E noi L'appui Ossetien Donc Il portatore Della balle Ed è qu'è un Ando Ed è qu'è un Un marcaso E non ci l'on Sotien Ed è qu'è un Ando La libertà Di giocare E non ci l'on Appui Io ricevo Io ricevo Allora Je fais Le demarcage Poi ricevo E poi ricevo Recessione Recessione Quei sono Le choix Che io Che fai Individualmente Dopo che ho preso La palla Quali sono Le scelte Che io devo Fai Vasì Vasì Io dico sempre La prima cosa In testa Il calciatore Deve avere Il tiro Soprattutto Soprattutto Se parliamo Di giocatori Che stanno In certe zone Del campo Quindi Marcarsi Mettersi bene Col corpo E ricevere E mettersi Nella condizione Di tirare in bordo La più grande abilità Non posso tirare Io non posso tirare Cosa mi fa Tammare Dribblo Non posso tirare Non posso dribblare Passo Allora Come vedete Come vedete Il passaggio Per me Nella decisione Individuale È effettuato Quando non ho Altra Soluzione A portare di mano Non posso tirare Non posso tirare Non posso tirare Passa, 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 passa. Non è corretto. Io non sono d'accordo. La passa, il passaggio, come tutte le scelte, deve essere contestuale. Non è detto che in quel momento ci vuole il passaggio. Soprattutto nei settori giovanili, nell'equipe di formazione, l'equipe di gennaio, secondo me, bisogna educare, se è necessario, educare le gennaio giovanili a tirare e a dribler. Poi, poi, la passa. Come la vedo io, eh? Si, adle, si ti fassero il concetto di lei, per lei, ciò che si adle, Soprattutto. No, mi ha fatto in un mondo di mangiare il passaggio, ma il dribler è un po' di tiri, ma il dribler è un po' di tiri e la passaggio. Normalmente, nelle squadre giovanili, quando il ragazzo dribler e tirano, non fare così. No, 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 no. Tu è full. Perché? Perché? Dansi un match prevedibile où tu connect di tout le monde, devienne nécessaire, dans le match et dans la formation de haut niveau, l'imprevedibilité. L'imprevedibilité la raggiunge col dribbling et col dribbling. L'imprevedibilité est aussi avec le debring. Stiamo parlando sempre dal punto de vista delle scelte individuali. L'imprevedibilité est aussi avec les choix individuels, pas les collectifs. Parce que après les collectifs viennent, c'est clair? Les collectifs individuels. Maintenant, quand la balle l'ont des adversaires, je vais jouer dans une situation de défaite. Quelles sont les choix que je dois prendre? La première, prendre position. Mettemi bene in mezzo al campo. Che significa prendre position? Robert, tu expliques ce concept. Prendre position. Un piano di position. Un piano di position. Un piano di position. Un piano di position significa mettersi al centro del triangolo immaginario. Le triangle immaginario. Le triangle immaginario. Formato dalla palla, avversario, porta, porta. 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 Porta, but. et toujours dans l'angle intérieur de ce triangle. Et toujours se trouve dans l'angle intérieur de ce triangle. prendo posizione per fare che cosa? io prendo posizione per marcare io prendo posizione e mi predispongo per la marcatura un'altra parte del marcatura sto in marcatura, che cosa posso fare quando sto in marcatura? io marco posso anticipare, prendo la decisione, anticipo l'avversario perché il passaggio è corto, l'avversario è più lento c'è una ragione io capisco che sono più veloce del mio avversario l'anticipazione, 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 l'anticipo è sull'avversario, l'intercetto è sulla palla l'anticipo è sull'avversario, l'anticipazione è sulla palla se non posso anticipare, l'intercettare, vado a difendere la porta se l'avversario riesce a ricevere la palla vado in contrasto anche in fase di non possesso, il giocatore da solo, dal punto di vista individuale, deve prendere sempre delle decisioni e le prende in rete queste azioni, sette azioni, sono dinamiche e chaotiche, non sono lineari non è che avviene prima questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo cerchio possono stare quella che c'è sempre è la presa di posizione la presa di posizione da qui ci possono essere queste quattro chiaro? allora io 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 sono il tuo compagno tu hai la palla mi smarco per ricevere poi ho ricevuto che faccio? tiro, dribblo, passo subito, immediatamente in rete quindi come già vedete io predispongo i miei giocatori quando ricevono la palla nella testa di avere già tre soluzioni capito? si allora prima la decisione mi smarco u in appoggio a sostegno benissimo si ok ok dopodichè a presto io ricevo il pallone ho il pallone mi smarco mi smarco spazio spazio infezione palla qui sono padrone dello spazio qui divento padrone del tempo perché ho la palla ok il worknam di Marcaz io sono padrone dell'espazio il worknam la reception io sono padrone del tempo certo poi io da solo non ho bisogno di nessuno non ho bisogno di nessuno da solo devo prendere questa decision da solo e il worknam di l'esercito non ho bisogno di nessuno da solo da solo 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 io quando decido di tirare sono solo solo sono solo sono solo sono solo quando decido la decisione finale qua ho bisogno dei compagni e se ho bisogno di partenari allora io ho la palla c'è la possession di un pallone sono solo ragiono da solo ragione io prendo decisione sul sul point di view individuelle di che viene trascurata spiega è molto trascurata perché perché si invita sempre a passare la palla perché si invita sempre a passare la palla perché esatto invece secondo me secondo me secondo me è la mia idea sollicite sollicite le gioie a prendere decisioni intanto individuali ma non significa essere individualista perché 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 se non 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 perché ho bisogno dei compagni qua sta la squadra se il giù non 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 comprende l'individuo è diverso, c'è differenza poi nel momento in cui ho bisogno della squadra la collaborazione l'interazione tra i giocatori può essere di tipo collaborativo io ho bisogno della squadra non posso tirare non posso triplare ho bisogno della squadra ho bisogno dell'equip ho bisogno della squadra, dei compagni e quindi devo collaborare con loro devo socializzare la decisione dobbiamo cooperare assieme per arrivare a un problema noi dobbiamo cooperare insieme per risolvere il problema per risolvere un problema di tutta la squadra comunitaria per risolvere tutto per portare il ragionamento a tutta la squadra quindi solo collaboro socializzo coopero e risolviamo un problema di tutta la squadra facciamo gol recuperiamo palla mettiamo in cuoricione per arrivare a risolvere il problema di tutta l'equip e sì la collaborazione sulle catene scena come si dice catena scena o culo come dice in francese scena scena ok ok collaborazione la collaborazione collaborative io la trovo dalle scena e dalla linea reparto io la trovo tra la combinazione dell'attiva tra la difesa e più centrocampisi cooperazione benessi velovo bici il gare per le difense difesa più attaccanti difense avec les attaccants centrocampisi difensivi i due centrali difensivi i due attaccanti centrali i due attaccanti centra i due centrocampisti centrali cioè l'idea militaire centrali a coppia a due due giochi ma che jou per ruolo per ruolo ruolo comunitare comunitaria vede impegnati tutta la squadra sotto la linea della palla sull'equipo sull'equipo ma io per comunitario intendo anche l'interazione tra un difensore un campista e un attaccante per comunitare noi abbiamo una collaborazione centrale e quando ci sono presenti nella comunitaria i ruoli delle tre linee si gioca a tre linee difensivi comunitare questa è una proposta di allenamento vedete sempre fase in proposizione un po' prendiamo fase catena shen 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 laterale shen centrale quattro contro quattro scena laterale c'è l'interno e fanno i si trova contro trova mini port i si cattro contro quattro con dei guardie e si trova contro e esso trova trova attività contemporanea simultanea questi giocano questi giocano questi giocano poi quelli che hanno lavorato tre gruppi possesso palla quattro corte in ampiezza a difendere in ampiezza e attaccare in ampiezza perché questo era il tema l'obiettivo della andiamo pian piano andiamo piano e non sono murino devo dobbiamo dare piano allora spieghiamo il concetto piano piano 4 di nuovo di nuovo sì sì in francese allora in francese easy easy set un proposizione attività formativa vedete io non parlo di riscaldamento eschauffement periodo centrale periodo tecnico periodo iniziale periodo centrale periodo fase fase cognitive qua devono capire dove sta il problema devono capire quali sono i problemi che vivono qua siccome questi sono giocatori e comprender il problema che vivono e vivere le esperienze di gioco viverla e vivere l'esperienza di gioco così qua devono capire dove sta il problema dove è il problema nostro problema dove ce l'hanno gli avversari il problema e l'avversario ha il problema si chiama scoperta guidata questo tipo di attività decoverdi guida 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 le trainer le trainer travaille su le contest le trainer l'entrainer doit travailler su le contest provoca la prise decisione la provoca il dov'ha provocare la prise decision non la dice prima ma il ne 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 devono capire qual è il problema che io l'ho messo di fronte. C'è dire di lasciare il gioco in una situazione di problemi e di lui dare l'occasione di trovare la soluzione, di imparare la soluzione. A traverso un apprendimento personale che è gratificato dal punto di vista emozionale. Il calciatore, siccome noi dobbiamo lavorare anche sull'aspetto mentale e emozionale... Se noi dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale e l'aspetto cognitivo... No, è emozionale. Come si accresce l'aspetto emozionale, la fiducia in se stessa, come la fai accrescere? Mettendo in condizione il giocatore di risolvere il problema da solo. Mettere il giocatore in condizione di risolvere il problema da solo. Il prende la fiducia in se stessa. 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 L'obiettivo è che mettere il giocatore in situazioni di problemi e è sempre di scoprire la soluzione per lui dare più d'idee, come un coach è nel stereotipo, c'est-à-dire che si è comandato da l'entrannatore e si è dato. Il suo contatto è inizialmente con l'incertezza del futbol e tutto questo, quindi è per lui a ogni volta di rinnovare le soluzioni. Bravissimo. Dicindra non ragiona più con la sua testa, aspetta sempre. Dicindra non ragiona più con l'entrannatore, ma non ragiona più con l'entrannatore, ma non ragiona più con l'entrannatore. non ragiona più con l'entrannatore. non ragiona più con l'entrannatore, ma non ragiona più con l'entrannatore. Dicindra non ragiona più con l'entrannatore. personale. Sì, bravo. Se vuoi un giocatore... Tabert, afferma un'altra volta questo concetto. se vuoi un giocatore che non ha paura di prendere decisioni, che non ha paura di prendere decisioni, non ragiona più con l'entrannatore. se vuoi con l'entrannatore, se vuoi con l'entrannatore. se vuoi con l'entrannatore, per risolvere e trovare più soluzioni. L'erreur è una prima volta di apprendimento. Bravo. È una grande risposta di apprendimento. L'erreur è una grande risposta di apprendimento. Existe la pedagogia dell'erreur. Si lavora sull'erreur. È una pedagogia dell'erreur. Attraverso l'erreur, e attraverso la pazienza dell'erreur, agisce sulla parte più profonda del calciatore. Attraverso la pazienza dell'erreur, si arriva nella parte profonda del giocatore. Esatto. E la fiducia in se stesso. C'è la confianza in soi. Ad avere un grande senso del se, di soi e di moi. e di diventare superiore all'errore, a non farsi condizionare dall'errore. E di diventare superiore all'errore. Come vedete, questo è un grandissimo lavoro sotto il profilo psicologico. Però stiamo giocando a pallone. sul profilo psicologico. Ah psicologico. quindi, ma non è una cosa astratta, ma non un termo astratto. Un termo concretissimo, concreto. Che significa? Travai concreto ed emozione. Eh concreto, dal punto di vista emozionale, emozionale e cognitivo, concreto. Cognitivo, presa di decisione. Emozionale, confianza in lui, confianza in me, fiducia, intraprendente. Come dire? Confianza. Eh, confianza. Ma, ma, sei, ma è importante. Che, donar al giώRE la possibilità di s'inizio, di prendere l'iniziativa per smettere la sua confianza. Puis-è perché? Sovra tutto, questo lavoro qui, Secondo me, è fondamentale nei settori giovanili. Ma soprattutto l'intervattamento è fondamentale per il centro di formazione. In mezzo a qualsiasi. Formazione e effetti juvenili, c'est-à-dire entre 12 e 16 anni, juvenile boulogne. C'è la tranche entre 12 e 16 anni, c'è l'adolescenza, non raccadino. Come? Si, l'età d'or dell'apprendimento tecnico, bravissimo. C'è definito l'età d'or dell'apprendizaggio tecnico e tactico. Si, tactico individuo, l'èche... L'èche d'or. Ma ora c'è la prima formazione, l'èche d'or dell'apprendimento tecnico, c'è entre 12 e 15 anni. Si, si. C'è tutto ciò che è la tactica individua, la tactica e l'intelligenza individua. C'è per questo che ha spiegato la decisione individua. Sì, bravo. Tre bene, tre bene. Io sono d'accordo. E in mezzo al campo, è riconoscibile il giocatore che è addestrato dal giocatore che è educato. Il giocatore che cerca la soluzione la più semplice. dà subito la palla, è quello che dà subito la palla, è quello che non fa il passaggio importante, è quello che non guida mai la palla, è quello che non va mai in dribbling. Quello è un giocatore che non ha fiducia in se stesso. Il giocatore che non ha fiducia in se stesso. Non creativo. Bravo. Non creativo, non costruttivo, non attivo, non propositivo. Si, prende decisioni, ma prende decisioni le più semplici, le semplici, quelle scontate, quelle che... Anche l'avversario. Ma la soluzione. Tablet, Tablet, spiega. Che questo tipo di giocatore fa capire all'avversario, fa capire anche all'avversario che cosa ha in testa. L'avversario non lo deve capire che cosa ha in testa. Perché l'avversario non lo deve capire che cosa ha in testa. All'avversario non lo deve capire che cosa ha in testa. ma non lo deve capire che cosa ha in testa, ma non lo deve capire che cosa ha in testa. sulla testa dell'avversario non lo deve capire che cosa ha in testa. Ma non lo deve capire che cosa ha in testa. non lo deve capire che cosa ha in testa. Ma non lo deve capire che cosa ha in testa. Ma non lo deve capire che cosa ha in testa. E sai... Come si comportano i suoi giocatori? Da come si comportano i suoi giocatori? E entro nella testa dell'avversario. Ma non lo deve capire che i suoi giocatori non lo deve capire che cosa ha in testa dell'avversario. Come si comportano i suoi giocatori non lo deve capire che cosa ha in testa. Come si comportano i suoi giocatori intelligenti? come rende il giorno intelligente? come dire? creative? attraverso un percorso come può arrivare ad un'equipe a prendere delle decisioni? dal punto di vista di complessità elevata perché noi dobbiamo conturre un percorso, lo dobbiamo conturre e quindi chiaramente allora spiega questo concetto la complessità non si semplifica la complessità, non può semplificare la complessità che significa non si semplifica? che comunque per essere complesso l'attività deve sempre prevedere l'avversario è un obiettivo da raggiungere se tolgo l'avversario non è più complessa la cosa chiaro? allora, mi ripeti il concetto? allora piano piano ok benissimo complessità significa che deve essere presente sempre tutto complessità complessità è avere tutto sempre tutto ok ok in cominciando dalla presenza dell'avversario l'avversario deve essere sempre in cominciando con la presenza dell'avversario bene io ho strutturato un percorso di complessità ho strutturato un percorso di complessità un percorso di complessità la minima complessità minima io penso va da uno a tre giocatori la complessità minimale io ho strutturato un percorso diOO quattro punti, e il giù che prende la balla deve chiedere quattro punti di attaccare. Quindi io ho trovato quattro punti di attaccare, due giù che prende l'adversario, e il giù che prende il coro deve chiedere quattro punti di attaccare. Prende la decisione, arrivo prima, vediamo qua da che cosa è determinata questa decisione. Arrivo prima, l'avversario è il posto di qua, mi lascia questo spazio, attacco questo spazio. L'avversario mi chiude questi due spazi, mi chiude questi due spazi, io vengo indietro. Quindi è una decisione, è una ricezione della palla, è un dribbling, ma è scontestualizzato. Io vado nello spazio che mi consente l'avversario. ok ok ora è una decisione. Mi chiamere la ricezione della palla, si sembra con il piatto, quindi l'avversario mi chiedere ogni spazio e la palla. Che è una palla che mi imponenta dall'attaccare, cioè prima l'avversario che mi chiedere con i suoi spazi, dove c'è un po' il piatto, questo si muove nello. vado oltre qui è un gioco di passaggio passa contro due i due intercettano la palla e diventano due contro uno quindi fase attiva fase passiva le due fasi assieme però qua vediamo sempre la stessa slide nella stessa slide la seconda slide non l'hai vista la seconda qua? questa qui due contro due, non l'hai vista? non si vede? io non l'ho vista ma l'ho vista l'internet si, è qua c'è la stessa c'è contro due l'internet è due grafiche due tiraghe ma l'internet è la stessa la stessa l'internet è la stessa l'internet è la stessa adesso qua la vedete qua? questa la vedete questa slide? si sono tanti due contro uno successivi noi abbiamo tanti molto di due contro uno successivo ok che cosa significa? che cosa significa? che cosa significa? complessità cambio ogni volta avversario cambio ogni volta accompagno questa è la presa di posizione la presa di posizione la chitaria è la vera che ci vuole passare a dire la complessità dell'esercizio sta nel fatto che loro devono cambiare in continuazione posizione rispetto alla posizione della palla qua sta la complessità nel complessità e per l'esercizio sta nel fatto che loro devono prendere la presa di decisione in funzione della posizione del pallone della palla quindi qua che cosa significa? che diventa fondamentale quando arrivano qua stare bene col corpo e orientarsi a guardare tutti i palloni tutti bravo, bravo bravissimo ah sì sì la percezione globale sì sì la percezione globale e poi la visione preferita dobbiamo avere una buona visione preferita la deuxième la deuxième element de complessità è lo fait che la passe non ha un ordine preciso capito? non c'è un ordine uno, due, tre, quattro e cinque ah ok non è che fa A, B, C, D si pepare no lui non lo sa sta palla dove va non lo sa vedi è andato una volta avanti una volta dietro e non è detto che sia un giro capisci? e chi ordina i giocatori a passare? ordine i giocatori a passare si devono guardare loro lo devono decidere da di loro allora se lo vuoi semplificare dai tu un ordine se la vuoi semplificare però non uno, due, tre, quattro catena destra, catena sinistra poi prima i centrali poi gli esterni cioè cambi sempre la modalità di esecuzione non devono mai sapere cosa gli aspetta deve essere pure il difensore deve essere educato all'imprevisto è un exercice di plasticità cerebrale della neuroscienza per le decision perché è una plasticità si chiamata un'entrazione di plasticità cerebrale ma t'arraf non bisogna indicare la base del ballone si è allumato a ogni volta di modifichare in funzione del ballone di esecuzione è un lavoro cognitivo pure e dur bellissimo e anche fisico chiaramente perché questo fa cambia di concentra forza centrica rapidità poi se la palla è alta se la palla è alta fa stacco di test spiepio quindi può diventare pure un gioco di forza qua sono quattro modalità di due contro uno abbiamo quattro modalità di contro a sei porte a quattro porte a sei porte a quattro porte a quattro porte a quattro porte a metà rugby linea a quattro porte a quattro porte a quattro porte a quattro porte le gruppe eseguono una rotazione tra le stazioni quindi tutti si esercitano su tutto tutti fanno tutto Abbiamo fatto un'execuzione globale, la rotazione e gli esercizi. Abbiamo fatto un po' l'espasso. Quattro minuti. C'è quattro terra a objectivi diversi. Il primo è come il rugby, c'è la linea, non c'è di butto. Il secondo esercizio, c'è due buti lungo. Abbiamo 4 buti, 2 di ogni città. Abbiamo 3 buti di ogni città. Il giocatore si torna. Abbiamo fatto un po' di gioco per terra. Però Tabbet, queste quattro partite, questi quattro giochi, sono eseguiti contemporaneamente? Capito? Giocano tutti. Sì, sì. Noi abbiamo fatto un po' di gioco. Giocano tutti. Passati quattro minuti c'è una rotazione. Passati quattro minuti c'è una rotazione. Non è facile, però è��요. Allora, tutto il mondo... Allora, tutto il mondo... ...fè tutto. Allora, un, due, tre, e poi vede. Trois attaccati contro due difensori. Trois attaccati contro due difensori. Sei contro due. Poi questi, chiaramente qua, spiega, partono sul passaggio. Qua, vedi? Partono dopo il passaggio. Poi puoi fare che partano prima del passaggio, parte prima uno con l'altro, poi la modifica, l'esercitazione. È chiaro. Capito? Però, anche il ruolo dei difensori è attivo. I difensori non difendono solo. Quando prendono la palla, possono attaccare le quattro porte. I difensori, durante la recuperazione, possono attaccare le quattro porte. Intercetto, tre contro tre, quattro porte. Intercetto, tre contro tre. E poi si scala. Vediamo. Allora, c'è sempre... C'è sempre la fase offensiva e la fase difensiva. E come vedete, c'è sempre un obiettivo da raggiungere. Non è come il gioco di posizione, dove fanno solo possesso. Non è come il gioco di posizione, dove fanno solo una fase difensiva e un obiettivo da raggiungere. A finalizzare. Con i portieri. In questo caso, in questo caso, mi ricordo, ma sempre ai portieri. Questo è fortissimo, è un grandissimo lavoro cognitivo, muscolare, aerobico e anaerobico. E tre contro tre, con marcature obbligate. Con marcature obbligate. Con sponde. È, obbligate. Con sponde. Con l'esappui. Che l'esappui. Che consente di giocare lungo e attaccare le spalle. Vedi? Non è possibile cambiare la marcatura. Questo è un gioco per la marcatura individuale. Spiega. È molto intenso. Questo è, dal punto di vista, tre, tre, bocù e intensità cognitiva e fisica. Très. Resistante. Fia intensità che viene o fia intensità cognitiva che viene la parcesi? Complessità, moyenne, media. 4-5 giocatori. Complessità, moyenne, 3-4 giocatori. Esempio. Esempio. Tre squadre. Quattro contro quattro. Quasi keep. Quattro contro quattro. O sponde. Il gol si può fare solo dopo il passaggio all'indietro. Non possono tirare di prima. Il gol è an ultima a pre... A volo. A volo. A volo. Questo allena nella fase difensiva a guadagnare subito la posizione, il riallineamento e a gestire il passaggio all'indietro che è più difficile. Spirsi. Una, al rischio, la posizione delle esercizioni, è un gioco molto bene con i defensatori, soprattutto quando l'adversario è ancora più difficile. Quattro contro quattro. Quattro contro quattro. Quattro contro quattro. Quattro contro quattro. con quattro sponde sulle luce. Poi si scala e si ricomincia da caldo. Come vedete se questo è fatto e ripetuto per 12-15 blocchi di 4 minuti è un grande lavoro fisico. Non pensate che non si lavori fisicamente. 12 blocchi e abbiamo un lavoro in 30-60 anni. Allora, spiega questo concetto. Io sono convinto che l'esercitazione cognitiva deve avere una durata non superiore ai 7-8 minuti. Tu sei? Convinto per gli studi di neuroscienza e come funziona la mente. Ho una confezione a pari dell'esercitazione di neuroscienza che l'esercizio cognitivo cognitivo non deve durare più di 7 minuti. Ne deve ne deve passare le 5-6 minuti. Poi gli devi dare 1-2 minuti di scarico cognitivo. Come c'è lo scarico fisico e lo scarico cognitivo? In base, il risultato è 2-3 minuti di recuperazione cognitiva. E in questo caso qua lo scarico cognitivo lo utilizzi lo realizzi utilizzando 3-4 minuti. 2-3 minuti. il risultato del cognitivo è che si sta facendo quando si sta mettendo il risultato in questo caso. Questi 4 che aspettano non aspettano solo fisicamente ma stanno scaricando anche dal punto di vista cognitivo. Spive, secondo me. Non è soltanto un riposo fisico. Ma è soprattutto uno scarico cognitivo, mentale, emozionale. Si 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 è la mente cognitiva la mente cognitiva la 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 si dice a cappello di prete come come potete dire voi cappello di prete è una curva che fa così fa così la curva fa così sale poi si mantiene un poco poi deve scendere come un cappello che il cappello di prete si dice al cappello di prete sale 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 questo è come quello due contro uno che abbiamo visto all'inizio ma un 4 contro 3 che perde palla qua vengono i tre rossi e vengono tre gialli poi passano di qua come quello lì del 2 contro 1 non lo animate perché tale qua solo che però è sempre un 4 contro 3 4 contro 3 4 contro 3 4 contro te vi ricordate il 2 contro 3 ve lo ricordate il 2 contro 4 contro 1 4 minuti finiamo mister Allora, alta complessità a partire da sei giocatori. Giocatori andando oltre, ora vediamo l'altra volta, qua 10 contro 10 per lo smarcamento, 11 minicorte, questa è una seduta formativa, prima fase, seconda fase, terza fase, e agisco sugli spazi, sui contesti, zona A, zona B, zona C, zona D, zona A, zona B, zona C. Poi, questo qua lo facciamo la prossima volta? Sì, sì, sì. Perché volevo spiegare il concetto di zona luce, zona ombra, primo uomo, secondo uomo... E' certo uomo. Chi? Allora, il chi? Il primo uomo. Se lui che è più progetto, ha la portetta. Prima, chi si muove prima? Il primo uomo. Il primo uomo è quello che sta più vicino alla palla, quello è il primo uomo. Poi arriva il secondo uomo, il primo uomo. Quando? Primo uomo. Quando? E' tutto il tempo. Quali sono i tempi che lui deve guardare dove sta la palla per smarcarsi? Dove? Su quale spazio? Questo è proprio per le mani queste cose. Ok. E come? Col contro movimento. Questo lo sta tutto in francese. Contro movimento. Certo lungo. Corto lungo. Lungo corto. Dentro fuori. Fuori contro. Anteriore e exteriore. Ok. Tre piano. Tre piano. Tre piano. Aspetta, non è finito. Tanto poco. Aspetta, non vuoi. Faccio fare una cosa. Ok. Questa è l'italiana. Questa è l'italiana. Questa è l'italiana. Questa è l'italiana normale. Che dite? Che stai dicendo? No, no. Ho detto che per il mister non ha problemi di stare neanche... No, no, no. Quando sto con voi... So bene. E' un piacere. E' un piacere. E' un piacere. Si. 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 Aspetta, faccio fare una cosa. Questa è tutta esercitazione per il primo uomo, il secondo uomo. Perché... Quando.. Dove... Perché. Esercizi tanto al premier uomo. Non è comunque. E poi li, lo sai. E' un altro uomo. E' perché? E' un altro uomo, la scuola, non è che significa sfruttare l'occasione wurde. tutto l'aspetto pedagogico. Vi volevo far vedere una cosa. Questa slide è qua. Quando io parlo di gioco è come se parlasse di un bambino. Spiega. Il gioco operativo è il mio bambino è il mio figlio. Il gioco cosa? Il gioco operativo è il mio figlio, il mio bambino. Il gioco operativo è il mio figlio, il mio bambino. Non è uno strano. Che nasce? Che nasce? Che nasce? Anarchico. Non si capisce niente. Non si capisce niente. Non si capisce niente. Caotico, molto caotico. Caotico. Poi incomincia, incomincia. Poi il comincia a dare una sua identità. Il comincia a venire fuori il gioco. Viene. Sta crescendo. qui nasce. Qui è un bambino. Qui è un giovane. Qui è un adulto. Qui è un adulto. Diventa grande. La struttura è una struttura. E' un adulto. E' chiaro? la struttura è una struttura. Quindi non bisogna spaventarsi quando all'inizio si propone un gioco e non funziona niente. E' normale. Quando si vede che quando l'ha proposto non funziona niente. Non bisogna alzare un problema. E' nato adesso. E' nato adesso. E' nato adesso. Ha bisogno del latte. Ha bisogno del pane. E' nato noi. Ha bisogno di pane. Deve succhiare al seno. Qui succhi al seno ancora. qua. Qua ha bisogno del seno della mamma. Allora facciamo la metafora del latte. Qui beve al seno della mamma. Qua beve al biberon. Qui beve col bicchiere. Qua va a comprare la mia grado o non ci si siete i ritmi199. Hanno esporto di latte. La mia grado. Qua va a proposto. Qua va aespo? 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 bravo tale spiega tablet che l'allenatore il trainer come la vedo io deve essere un facilitatore di apprendimento non tra noi dobbiamo essere facilitatori non uno che strilla, che grida, non uno che non deve poter essere e nel gioco operativo c'è sempre un'azione senza soluzione di continuità interazione dinamica singolo, catena, linea, reparto e gruppo in va e vieni squadra, contesto, si torna indietro, tutto sempre assieme per arrivare a questo, per arrivare a questo, guarda qua che strada bisogna fare la strada, questa strada, questa tappa, questa altra tappa, questa tappa, questa tappa per arrivare qua ora arrivi alle imprevisibili secondo me eh sì, ecco, perfetto queste sono tutte situazioni di sempre con l'avversario l'ultima? no, l'ultima cosa, questi sono i tipi di gioco tipo di gioco, spazio-tempo generale, spazio-tempo di ruolo di reparto spazio-tempo di sistema, spazio-tempo di gara sull'avversario qui, qua si pensa solo all'avversario «E si, ecco, ampliciamo l'avversario» qui? Ah, scusa. E sì, e sì, e sì, procedi ciò, il nostro progetto di gioco, si lavora su noi, sulle nostre forze, sui nostri punti forti. E anche sugli errori emersi la domenica precedente. Qui, qui, questa, sono giochi preparatori per la partita successiva. Ce sono dei giochi preparatori per il prossimo match. Questa qui è una settimana di lavoro. Vi faccio vedere solo questo. Martedì, mercoledì, venerdì. E poi vi faccio vedere i filmati di questa partita. Questa partita qua la preparammo con un, vedete qua? Cinque contro sei, cinque contro quattro. Questi attaccano, questi fanno copertura preventiva e gestiscono la transizione negativa. Anche questa squadra qua, gli avversari, lasciavano sempre quattro giocatori pronti a partire. E noi decidemmo, 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 e io decisi già dal martedì di fruttare questa zona di campo. Questa. Hi, è che erano 3 o 5 a partita. In quanto riguarda quel partita questo uomo? l'idea era quella di attaccarli qua venire tra le linee attaccarli qua e poi andare a prendere la palla in aria poi vi faccio vedere la prossima va bene dai va bene? no mercoledì mercoledì divenne un 6 contro 7 e un 4 contro 3 non era la tua lì non era la tua lì allora come restiamo io mi auguro che le cose sono piaciute mi auguro di tempo io mi auguro che le cose sono piaciute come le scienze non ci sono piaciute non ci sono piaciute non ci sono piaciute non ci sono piaciute mi auguro che l'avete trovato interessante e riflessio quindi io trovo che è molto interessante per noi perché lì vanno passare dell'individuo del collegato ai giochi alla settimana per progetti le exercice è molto constructivo là io comprendo meglio perché lì vanno attenzione soprattutto sul costruzione è per costruire e formare un giocatore intelligente non ci sono piaciute grazie molto tu hai detto è molto importante per me non ma è vero tabet non so se tabet ve l'ha detto tabet ripetete queste sono cose che non trovano da nessuna parte è mia produzione esatto quindi probabilmente posso anche dire cose che non sono condivise spiega io non ho la pretesa di dire la verità spiega sono le cose come? non ho la pretesa di pensare che quello che dico io è la verità ah ma perché io credo che io credo assolutamente la verità però credo molto in quello che faccio ma il il croato ha sempre ha sempre 30 perché quello che faccio è studiato onterato riflettuto e poi e poi sperimentato sul campo e ho il conforto e ho il conforto che del campo ho il conforto che il campo mi dice il campo mi dice che è una strategia vincente che funziona che funziona che funziona che funziona la realtà la realtà è la realtà che che funziona non è un lavoro astratto filosofico e base non è perché se ne parla un lavoro filosofico o psicologico no ha come come pilota un sostegno come retroterra la psicologia la filosofia la scienza ma poi è confortato dai fatti dai risultati del campo non è non è non è non è la base del lavoro scientific e psicologica non è 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 tutta la metodologia se repose sui la scienza entre altre psicologia sociologia emozionale cognitivi tutto e poi per lui è il solo passo tutto passo dopo ogni esercizio dietro a ogni esercitazione dietro a ogni esercizio dietro a ogni esercizio c'è una proposta c'è una c'è una c'è una città niente è fatto niente è fatto E se vedete, se vedete, molto probabilmente sono esercitazioni che avete visto pure da fare da qualcun altro, no? Probabilmente l'esercitazione si è sempre lo spazio e il tempo, e poi, per finire, queste cose qui assumono un significato ancora più elevato, assumono un significato più elevato, quando la vedi fare sul campo. Perché uno ascolta il feedback, la correzione, la relazione, il modo di rapportarsi con i giocatori, che è fondamentale, anche un'altra cosa, fondamentale nell'allenatore saper comunicare con i propri giocatori. Sperto la comunicazione, il feedback, la relazione con i giocatori e tutto questo. Grazie molto, prof. Grazie tanto. No, figurati, grazie a voi. Alla prossima settimana, alla fine settimana, con la terza parte. La terza parte facciamo solo sistema, sistema, esercitazione sul sistema. Perché tutto, spiega, io tutto quello, adesso, la prossima volta sono solo esercizi, esercitazioni. Sperò io avevo necessità, dici, avevo necessità di far capire cosa c'era dietro, cosa c'è dietro a quel lavoro. Se no, sarebbe diventato solo un eserciziario. Ma altrimenti, potrebbe diventare solo un esercizio, un sempli esercizio, un sempli esercizio. che uno fa su Youtube e su Internet, si scarica l'esercizio e lo fa. Noi, non so, non so, non so, non so, non so, non so, ma abbiamo due interventi. Come si chiama il sistema di gioco, l'esercizio del sistema di gioco. Per questo, per questo io insisto a preparare il lavoro sul campo. Se no, sembra che facciamo tutti la stessa cosa. Se no, sembra che facciamo tutti la stessa cosa. Inoltre, sembra che noi siamo tutti facciamo la stessa cosa. E non deve essere così. E non deve essere così. E non deve essere così. Ecco qua. Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi, prof網 imediatamente in questo super video. Grazie a voi, professor. Grazie a voi essereимato in questo perfetto. per aiutare un lavoro e un attraimento intelligente sia per i giovani che per l'equipe di alto livello. Grazie. Io dico sempre, io non vengo per chiudere i buchi, spiega. Io non vengo per chiudere i buchi. Io non vengo per chiudere i buchi. Ma per aprire finestre? Sargerino mi cucarino. Ma per aprire finestre. Per aprire finestre? Per aprire finestre? a dare le possibilità di s'épanouire gli attraverso. Non è un boucher di fenêtre, un boucher di trou, ma è qualcuno che dà la riflessione, che dà l'ouverture e non la fermeture. Bravo. È bravissimo. È una persona che mi ha fatto molto piacere incontrare una persona come lui, oltre a tutti gli amici che già conosco. Mi ha fatto molto piacere. È un grande piacere, veramente. Non ho capito che non ho capito. È un piacere di partagere. È una persona molto competente. Io lo capisco. È un piacere di grande cultura calcistica. di grande cultura calcistica. È un apprendimento di tutti i giorni. È un apprendimento di tutti i giorni. È un apprendimento di lui, è un grande motivo di orgoglio. di Tokyo. È è uno stato molto piacere. È uno stato. c'è un grande monsieur honnêtement con questa modestia e questa l'envie di dare tutto e di ne riempire per i colleghi lo partagio con grande paese bravo c'è un'altra dimensione l'entraimenta c'est impressionante c'est impressionante un saluto affettuoso a tutti e ci sentiamo la settimana prossima ok grazie un abbraccio a tutti ciao Talel salutami la moglie la fama e le figlie Talel ciao 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 ragazzi ciao ciao cari ciao 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 Sì, senti. Sì, senti. Sì, senti. Ma che cosa ha detto? Sì. Se non si tratta di capire, non si tratta di capire. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così. Non è così.